Questa presentazione vi è trasmessa grazie agli amici del Ministero di Amazing Facts. Il pino dai coni setolosi è uno degli organismi più longevi della Terra. Incredibilmente può vivere oltre 4000 anni. In realtà, una specie chiamata albero di Matusalemme nelle White Mountains della California pare abbia più di 4700 anni ed è tra gli alberi più antichi del pianeta. L'albero c'era già quando gli egizi costruirono le piramidi. Alcuni di questi antichi sempreverdi, trovati su sperdute cime di montagna, sono sopravvissuti a migliaia di anni di venti intensi e gelidi, a piogge battenti, sole coccente e violente tempeste elettriche. Come hanno fatto a sopravvivere per millenni in condizioni climatiche così dure e avverse? L'hanno fatto affondando le radici in profondità e avviluppandosi tenacemente alla roccia solida e restando saldi. Sapete amici, Gesù ci dice che ci sarà un tempo di tribolazione poco prima del suo ritorno. Una tempesta terribile e spaventosa di guai come non ne abbiamo mai viste. La vostra vita è ancorata saldamente alla roccia solida di Cristo? Guardiamo insieme dalla Bibbia proprio quello che accadrà negli ultimi giorni. Sapete che è molto interessante che ci siano così tanti programmi ora che si occupano del tema del survivalismo. National Geographic ha un programma che parla specificatamente dei survivalisti del giorno del giudizio e molte persone si sono chieste cosa succederà. Alcune persone non sono nemmeno religiose, hanno solo visto quello che sta accadendo nel mondo, sono preoccupati per l'ambiente, sono preoccupati per un disastro naturale, dicono cosa faremo se ci colpisce un asteroide o se ci sarà uno tsunami o un collasso sociale. Altri sono preoccupati della fine del mondo e ci sono implicazioni religiose oltre alle paure. Ma molte persone sono preoccupate. Quanti di voi hanno sentito qualcuno che è un survivalista che sta cercando di prepararsi per gli ultimi giorni, facendo scorte di fagioli e hanno, sapete, energia solare e tutto il resto che non è necessariamente una cosa negativa? Karen e io abbiamo una baita nelle colline da 40 anni e ora penso che siano 35 anni che viviamo isolati e solo perché non c'è elettricità nei dintorni. Ma molte persone lo fanno perché pensano che quando ci sarà questo collasso enorme, in qualche modo sopravvivranno. Ora, per anni la gente si è comportata dicendo, beh, questo è solo un gruppo di nicchia che se ne preoccupa. Ma ora sta andando oltre. Penso che fosse solo settimana scorsa che il Wall Street Journal abbia pubblicato un articolo secondo il quale ora circa il 60% di multimilionari ha un piano o un luogo dove proteggersi nel caso di un collasso sociale. Vedete, survivalisti della fine del mondo tra i super ricchi. Comprano silos missilistici disattivati. Avete presente i grattacieli che vanno su nel cielo? Ecco, questi vanno sottoterra e hanno delle stanze e ci vogliono 3 milioni di dollari per un piano e stanno andando a ruba perché questi multimilionari e miliardari comprano luoghi sicuri con un sistema interno di purificazione dell'acqua, di purificazione dell'aria, coltivazioni idroponiche. Hanno la piscina, un teatro per 17 persone, una farmacia, una prigione e tutto è costruito sottoterra. Sapete, hanno pensato che se qualcuno esce di testa hanno anche la prigione, finché non si sbolliscono. Perché sapete, se vi trovate in mezzo a un mucchio di milionari, qualsiasi cosa potrebbe accadere. Quindi non sono solo gruppi di nicchia che pensano a una sorta di catastrofe che sembra minacciare l'orizzonte. I manager dei fondi di investimento multimilionari e miliardari della Silicon Valley si stanno preparando a quello che pensano sarà inevitabile e voi prendete in esame quello che studieremo stasera e vedrete perché. Quindi parleremo stasera dei segni della venuta di Gesù. La seconda venuta di Cristo è quello che chiamiamo il culmine o il punto più alto della profezia. E seguiremo il metodo della domanda risposta, che mi aiuta a stare in tema e di conseguenza crea un quadro d'insieme per il nostro studio. La prima domanda è qual è uno degli insegnamenti centrali dell'Apocalisse? Ora, forse vorrete prendere appunti. Abbiamo citato del materiale extra che potete prendere insieme a queste presentazioni, ma vi citerò alcuni passi solo dell'Apocalisse, in modo che capiate che la seconda venuta di Gesù non è un ripensamento nell'ultimo libro della Bibbia. Per esempio, Apocalisse 1, versetto 7, primo capitolo. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto. Potete leggere in Apocalisse 14, 14, poi vidi una nuvola bianca ed ecco sulla nuvola stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, il quale aveva sul capo una corona d'oro. Di nuovo si parla della seconda venuta, qualcuno che viene sulle nuvole, Gesù viene sulle nuvole. Potete leggere in Apocalisse 22, versetto 7, ecco io vengo presto, beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Ora, questo è l'ultimo capitolo della Bibbia, ma non abbiamo ancora finito. Andate a Apocalisse capitolo 22, versetto 20, colui che testimonia queste cose dice, sì vengo presto. Come? Presto. Presto, notate che viene presto, presto e probabilmente starete pensando, pastore Doug, Giovanni l'ha scritto 2000 anni fa, l'idea di presto di Dio e la mia non sono uguali. Intendo dire che noi vogliamo cibi pronti, pensiamo che i forni a microonde siano troppo lenti, vero? Perché ci mette così tanto quindi? State con noi e ne parleremo tra poco. Colui che testimonia queste cose dice, sì vengo presto, amen, sì vieni Signore Gesù. Uno dei principali insegnamenti del libro. Quindi con questo a mente, cioè che il Signore dice che verrà e verrà presto, cosa possiamo dire del momento del ritorno di Gesù? Beh, qui è il punto in cui dovete stare molto attenti e voglio che ascoltiate molto attentamente quello che vi sto dicendo. Possiamo sapere che il Signore tornerà presto, ma state attenti ai gruppi che vi danno una data per il ritorno del Signore. Matteo 24, Gesù ha detto, parlando della sua seconda venuta, quanto poi a quel giorno e a quell'ora, quanti ne sanno? Nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Sono sicuro che Gesù sia in cielo, lo so ora, ma quando Cristo era, voglio dire, dubito che il Padre abbia detto, oh so la data ma non posso fidarmi di te. Quando Gesù era sulla terra ha detto, non so nemmeno la data, solo mio Padre la conosce. Quindi quando qualcuno inizia a presumere e a dirvi, ho capito, ho fatto il calcolo, so il giorno e l'ora della venuta di Gesù. Questo gentiluomo qui, Harold Camping, un uomo molto sincero, non lo metto in dubbio, era il presidente e uno dei fondatori di Family Radio. Danno della bella musica cristiana, ma penso che molti di noi ricordano quando alcuni anni fa ha predetto, penso fosse il 2011, per la seconda o la terza volta aveva scelto una data per la seconda venuta. In realtà la data era, penso, il 1994 o 96, non ricordo. Stavo facendo un seminario e di nuovo aveva scelto una data, favorendo davvero la frequenza al mio seminario. Ma ovviamente Gesù non è venuto e ho sempre messo bene in chiaro che non è così che funziona. Aveva scelto l'11 il 21 maggio 2011 e l'avevamo intervistato per davvero. Eravamo a Fox News, a Sacramento, perché gli avevo fatto un'offerta. Aveva una grande rete di stazioni radiofoniche e gli avevamo detto, ti daremo un milione di dollari per le tue stazioni radio, le puoi usare ora, ma se Gesù non viene, firmi e le cedi a noi. E non l'ha fatto. E da allora era sincero, gli è venuto un attacco di cuore poco tempo dopo che Gesù non è venuto. Penso fosse devastato, ci credeva davvero, ma ha messo in confusione molte persone. E sapete cosa? Ha fatto perdere credibilità al mondo cristiano. Ecco perché bisogna stare attenti alle persone che continuano a fissare delle date, poi date successive e poi un'altra cosa ancora. Penso che sia necessario vivere in un clima di attesa, perché in realtà, per quanto riguarda voi, se morite il vostro successivo pensiero consapevole è la risurrezione, la seconda venuta di Gesù. Potrebbe venire per voi molto in fretta. E anche se vivete 90 o 100 anni, cos'è paragonato all'eternità? Le nostre vite sono molto corte. La Bibbia dice che un giorno per il Signore è come mille anni. Ora, Gesù ci ha detto che non conosciamo il giorno o l'ora, ma possiamo capire quando è vicino. Matteo 24, versetto 33 dice, quando vedrete tutte queste cose, sappiate cosa? Che Egli è vicino. Quindi Gesù ci ha dato dei segni. Ha detto, alzate lo sguardo quando vedete queste cose. Vuole che guardiamo. Cinque volte in Marco 13, quando Gesù parla della seconda venuta, dice, vegliate, vegliate, vegliate. In realtà quattro volte, ma vuole che vegliamo. Ha detto, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Poi ha raccontato la parabola delle vergini in attesa dello sposo. Si addormentano e non sono pronte. E quindi vuole che pensiamo a queste cose. E quando arrivate a un programma come questo, in cui si parla del ritorno del Signore e la promessa finale nella Bibbia, che dice che il Signore Gesù tornerà, quindi è positivo che i cristiani parlino dell'avvenuta di Gesù. Amen? È positivo. Non stabiliamo delle date, ma Egli vuole che vegliamo. Quindi, verrà presto? Lasciate che vi dia un'idea più ampia di dove siamo nella linea della storia. La Bibbia delinea la storia in tre grandi epoche. C'è il tempo da Adamo ad Abramo, di circa 2000 anni. Non sappiamo la data esatta della creazione. Amazing Facts ha passato molto tempo a delineare una linea del tempo cronologica della Bibbia addizionando i periodi nella Bibbia, solo per sapere quando, per esempio, Davide ha vissuto rispetto a Sansone e cose del genere. E quando si è trattato di tornare all'epoca di Adamo e della creazione, è stato possibile solo fare una stima ragionata e, anche se sapessimo la data, non sarebbe comunque il modo per scegliere un giorno per la seconda venuta. Solo guardando la linea del tempo. Adamo è nato, non si dice davvero che sia nato, è stato creato, circa nel 4004 a.C., più o meno intorno a quel periodo. 2000 anni dopo è nato Abramo. Per i primi 2000 anni Dio ha annunciato il Vangelo per mezzo dei patriarchi. Non erano ebrei. Erano persone come Adamo e Sette, Noè, Mattusalemme e così via. Enoch. Gente devota. E poi, dall'epoca di Abramo, Dio ha annunciato il Vangelo per altri 2000 anni, soprattutto attraverso il popolo ebreo. Il popolo ebreo e Gesù è nato circa nel 4 a.C. Ora, so che questo confonde la gente. Dicono, pensavo che Gesù fosse nato nell'anno zero. Ed ecco perché diciamo, per esempio, che il 4 a.C. è prima di Cristo. Quando hanno stabilito il metodo di datazione, hanno fatto una stima sul momento in cui Gesù è nato. L'hanno fissato all'anno zero. Poi, anni dopo, si sono resi conto che il re Erode il Grande era morto circa nel 2 a.C. Sappiamo che è uno di quelli che hanno cercato di ammazzare tutti i bambini di Betlemme. Gesù doveva essere già vivo allora. Ci siamo resi conto che Gesù è stato battezzato nel 27 d.C. È stato battezzato al suo trentesimo compleanno, dice la Bibbia. Se contate al contrario, ci si rende conto che il metodo di datazione avanti Cristo-dopo Cristo è sbagliato di circa 4 anni. Ma quindi poi ci sono 2000 anni da Adamo ad Abramo, 2000 anni da Abramo a Cristo. Poi, per i successivi 2000 anni, il che ci porta oggi, il Vangelo è predicato attraverso l'Israele spirituale o la Chiesa. E poi, dopo aver capito questo, e ovviamente ora viviamo in un'epoca dello spazio, sappiamo che stiamo vivendo esattamente 2000 anni dalla vita di Gesù. Stiamo vivendo 2000 anni dopo la sua nascita e la sua morte. Ed è un momento interessante nella storia. E poi trovate in Apocalisse, capitolo 20, si dice che c'è circa un periodo di 1000 anni alla fine di questi 6000 anni di storia della Bibbia, parlando di tempo biblico, per un totale di 7000, che è un numero interessante. Sapete che nella Bibbia si dice che un giorno per il Signore è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Dio sembra seguire un modello nella Bibbia in cui si lavora per 6 giorni e si riposa uno. E qui ci sono 6000 anni per il piano di salvezza. Qui siamo vicini alla fine di quel periodo e poi altri 1000 anni si dice che i Santi vivranno e regneranno con Cristo. È come un sabato di 1000 anni, se vogliamo. Quindi vi ho gentilmente dato da tenere a mente questo grafico in cui ci sono le tre epoche. I 2000 anni dei patriarchi, i 2000 anni degli ebrei, i 2000 anni della Chiesa o dell'Israele spirituale. Poi i 1000 anni in cui vivremo e regneremo con Cristo. Stiamo vivendo proprio in un momento che sarà di grande interesse. Francamente penso che stiamo vivendo nella generazione che vivrà il culmine di tutto quello che è stato predetto. So quello che alcuni di voi stanno pensando. Pastore Doug, voi pastori parlate ora della seconda avvenuta di Gesù da 1000 anni e non è ancora venuto. Quando verrà, penserete che è stato troppo presto. E sapete cosa vuol dire? Che un giorno uno di noi avrà ragione. Tornerà. Tenete a mente che Dio ha detto ad Abramo che nella sua discendenza sarebbe venuto il Messia. Ogni ragazza ebrea sperava di diventare madre del Messia. Poi passarono 100 anni. Poi ne passarono 200. Continuavano a dire sta per venire, sta per venire, il Messia sta arrivando. Passarono 500 anni, 1000 anni e stavano iniziando a perdere fede. Sì, dicono che il Messia arriverà alla fine quando Gesù è venuto. 2000 anni dopo, erano pronti? No, potrebbe succedere di nuovo? Sì, era lo stesso all'epoca. Quali sono alcuni dei segni che Cristo è vicino? Ecco la nostra domanda numero 3. Ora, se avete le vostre Bibbie, non so se avete portato la Bibbia ma ve lo leggo. Se andate a Matteo capitolo 24, Gesù parla dei segni della seconda avvenuta. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Dice che ci saranno guerre, ma la guerra non è un segno, ci sono sempre state le guerre. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze, queste sono delle piaghe, e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Ed ecco la promessa. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Non perdete la pazienza. Anche nell'Apocalisse si dice che la pazienza è dei santi. Perché pensate che sia necessario aver pazienza? Verrà presto e alcuni dicono oh, ma verrà mai? Aspettate, verrà di nuovo. Quindi estrapoliamo alcuni dei segni che abbiamo appena visto quando si parlava dei segni della fine. Abbiamo parlato di guerre e di rumori di guerre, di instabilità politica. C'è oggi nel mondo? Sì, sapete, proprio al telegiornale negli ultimi giorni. Non solo la Corea del Nord continua a spingere per superare i limiti e testare la distanza a cui mandare missili balistici. Ma l'Iran sta testando missili e ha chiarito bene che ci sono delle nazioni che non gli piacciono molto. Noi siamo una di queste. Israele è un'altra. Voglio dire, ora è come se tutto il Medio Oriente fosse una polveriera. E purtroppo l'uomo non ha mai fatto un'arma che poi non abbia usato. È un dato storico. E vi chiederete se a un certo punto qualcuno riuscirà a impadronirsi di un'arma nucleare della guerra fredda o quello che succederà. Sapete che l'Apocalisse ci dice che Dio ha gli angeli che trattengono i venti della discordia per fare in modo che si diffonde il Vangelo. Penso che l'unica cosa che ci sta dando uno sprazzo di pace è che il Signore sta scacciando i venti di guerra per darci l'opportunità di annunciare la buona novella quando c'è ancora tempo. Guerre e rumori di guerre. Ho visto un fatto interessante. Sapete che il mondo spende più di 100 milioni di dollari all'ora per soldati, munizioni e macchine da guerra. E pensate a cosa costano le milizie americane all'ora e la Russia, la Cina e così via. 100 milioni di dollari all'ora vengono spesi per prepararle. Non solo guerre e rumori di guerre. La Bibbia ci ha parlato di terremoti in vari luoghi. Non solo terremoti. Il terremoto del 2004 che ha scatenato lo tsunami. E 250 mila persone sono morte. E tutti continuano a dire sulle coste occidentali quando verrà il prossimo. E abbiamo già visto alcune catastrofi terribili con i terremoti. Ho visto un dato della Geological Society of America e del National Earthquake Information Center, secondo cui tra il 2004 e il 2014 18 terremoti di magnitudo 8 più alta hanno smosso delle zone di subduzione sulla Terra. Questo significa un aumento del 256% rispetto al tasso medio del secolo precedente. Ora, mentre parlo dei segni, quali guerre e quali rumori di guerre, piaghe e terremoti, tenete a mente che ci sono sempre state. Quello di cui il Signore sta parlando è quando aumentano la frequenza e l'intensità. Quando Karen e io abbiamo avuto figli, lei era incinta e di sera aveva dei dolori. Penso si chiamino contrazioni di Braxton Hicks o una cosa del genere. E sapete, la reazione potrebbe essere «Oh, sento che c'è qualcosa! Andiamo dal dottore!» E spesso loro sorridono e ti rimandano a casa dicendo «Primo, rilassati, ce ne saranno molte altre». E sapete, di solito il nono mese sono pronti per nascere e loro vogliono avere il bambino. Ma quando improvvisamente iniziano i dolori e sono più ravvicinati come frequenza e diventano più intensi, allora sapete che sta per nascere. E allo stesso modo, verso la fine dei tempi, vedrete i segni di cui Gesù parla. Le guerre, beh, nel secolo scorso abbiamo avuto due guerre mondiali. Sembra che siamo sull'orlo della terza, dal modo in cui vanno le cose. Non è una guerra normale, è una guerra mondiale con armi nucleari e bombe atomiche e l'intensità di queste cose, inclusi terremoti e disastri naturali, sembra stia aumentando e si stia intensificando. Quindi è qualcosa che dobbiamo tenere a mente. Le piaghe, le pestilenze, Gesù ne ha parlato. Penso che non siamo, forse, tutti rabbrividiti alle immagini terribili che abbiamo visto arrivare dall'Africa occidentale con l'epidemia di Ebola recente. Ma non è la piaga peggiore. Poco più di cento anni fa, nel 19, penso fosse poco meno di cento anni fa, nel 1917-1918, un'epidemia di influenza, sapete che ha ucciso più persone della prima guerra mondiale. Circa 40 milioni di persone sono morte per un ceppo di influenza. E ora, con gli antibiotici, la scienza ci sta dicendo che c'è la possibilità di un ceppo molto resistente, un super virus che si potrebbe diffondere molto velocemente. Perché io viaggio molto. Se si sale su uno di quegli aerei, tutto quello che serve è una persona malata che tossisca e viene diffuso nel sistema di ventilazione. E cavolo, gli aerei nel mondo sono un modo molto efficace per diffondere virus nel mondo. E quindi i governi ne sono consapevoli e sono molto attenti al riguardo. Ricordate con l'Ebola, la gente che vola, hanno fatto esami a tutti per vedere quanto velocemente si diffondesse. Di nuovo è solo la grazia di Dio che sta tenendo a freno queste cose ora. Uno dei segni che Gesù dà degli ultimi giorni è la violenza. Cristo ha detto come è stato al tempo di Noè e come è stato al tempo di Lot, così sarà al tempo in cui il figlio dell'uomo tornerà. Come è stato al tempo di Noè. Leggete in Genesi capitolo 6. I cuori degli uomini erano corrotti e la violenza riempiva la terra. La Bibbia ci dice che il Signore era addolorato nel profondo, persino di aver creato l'uomo. E mentre considerate queste cose, pensate che abbiamo questo tipo di violenza nel mondo oggi? Ecco un fatto interessante. Ogni giorno sempre più giovani americani muoiono per violenze tra gang che combattono in guerre straniere. So che a Chicago nel 2016 ci sono stati più di 718 omicidi. Sono più le persone uccise in una città americana rispetto ai nostri soldati ammazzati negli ultimi sei anni di guerre nel Medio Oriente. Violenza. Uno dei segni degli ultimi giorni e se non vi dispiace che lo dica, non penso che dovrebbe sorprendervi quando, se guardate la TV, trovate sicuramente persone che si divertono con la violenza. E se vi divertite con la violenza, tendete a riprodurla, soprattutto i giovani. Vedono migliaia e centinaia di omicidi mentre crescono e diventano insensibili e indifferenti. Vedono tutte quelle sparatorie alla TV e non si rendono conto della differenza tra una pistola vera e quello che succede nella vita e nella finzione. E c'è questa fredda indifferenza, immoralità, porno. Ho visto uno studio non tanto tempo fa che è scioccante. Il 12% di tutti i siti sono pornografici. E ci sono milioni di siti web. Il 12%, il 35% di tutti i download hanno contenuto pornografico. 25% delle ricerche sui motori online è legata al sesso. 40 milioni di americani si considera regolare visitatore di siti porno. L'età media del primo contatto col porno è 11 anni. L'età media sta assaturando la nostra società e le cose che una volta erano considerate immorali stanno diventando una cosa normale. La gente sta diventando indifferente alla purezza a cui Dio ci chiama. E sapete che non posso passare su questo argomento senza citare qualcosa di cui penso che siamo tutti consapevoli. La Bibbia dice lo stesso avvenne ai tempi di Sodoma. Così sarà la venuta del figlio dell'uomo. E francamente sono molto deluso che la differenza tra uomo e donna sia diventata molto confusa quando si parla di matrimonio. Non voglio essere scortese. Mi rendo conto che è molto scorretto politicamente dirlo, ma sono qui e dirò quello che dice la Bibbia. Sovrappopolamento. Sapete che ho visto uno studio? L'ho cercato per controllare i dati oggi. Proprio ora stiamo approcciando, sapete, quota 7 miliardi e mezzo di persone nel mondo. Ci sono voluti circa 5.000 anni. Penso fosse il 1829 quando il mondo è arrivato al primo miliardo di persone. 5.000 anni per il primo miliardo. Poi ci sono voluti 123 anni. Dopo solo i 123 anni per il secondo miliardo. Poi circa 30 anni dopo si è arrivati al terzo miliardo. Ricordo quando c'erano solo 3 miliardi di persone. E non sono così vecchio. E nella mia vita la popolazione è più che raddoppiata da 3 miliardi a 7 miliardi e qualcosa. C'è in realtà un sito internet in cui potete andare che conta quante persone nascono, quanto velocemente. È abbastanza sconvolgente stare seduti e guardare queste persone. 90 milioni di persone si aggiungono alla popolazione mondiale ogni anno. 90 milioni di persone, inclusi quelli che vengono eliminati perché muoiono. Ci sono 90 milioni di nuove persone che attingono alle risorse del pianeta. Karen e io siamo stati in Cina un paio di volte. Lasciate che vi dica che ci sono molte persone in Cina. Ricordo che a Shanghai sono cresciuto a New York, è una città trafficata e molto popolata, ma sono stato in Cina. E mi sono sentito come se stessi guidando in centro a New York per un'ora e non si è mai fermata. 24 milioni di persone in questa città. Ma stanno aumentando. E questo ci dice che non può durare per sempre. Ecco perché Gesù ha detto, e se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe. In altre parole, se non venisse il momento e non fosse abbreviato, nessuno si salverebbe. Quindi il Signore deve venire presto o non ci sarà nulla per cui venire. Un'altra ragione per cui penso che stia venendo a breve è che tutti credono che Gesù verrà quando tutto il mondo inizierà a ingoiare se stesso. Ma penso che sarà un po' prima di così, perché ci ha detto che in quel momento non penseremo che il figlio dell'uomo stia per venire.